Buonasera, amici carissimi. Grazie della vostra attenzione, della vostra presenza, i giochi di colore sono un po' adattati, però abbiamo voluto mettere questo bel ciclamino a indicare proprio la fioritura della realtà e della speranza, nonostante il freddo gelido di questi giorni, pungente ma bello, limpido, pulito, terzo è il cielo e il vento, il freddo, fa ricordare molte cose. Mi fa pensare un po' al Trentino, alla mia terra nativa, mi fa pensare alla bellezza del Molise, com'è bello passeggiare. Oggi ho fatto una lunga camminata dal cimitero all'Episcopio a piedi lentamente, con calma, è stato molto molto bello, perché veramente questa atmosfera invita a camminare, invita a sperare, invita a guardare lontano, è il tipico dono dell'Avvento, momento meraviglioso, magico direi. E vorrei innanzitutto ricordare due cose. Il centro storico in questo periodo si ravviva. Oggi siamo stati, e poi vi racconterò, nella Chiesa di Santa Maria della Croce a Campobasso, per la festa di Santa Lucia. Domenica c'è di nuovo la Messa a San Bartolomeo, alle ore 10.30. Per chi vuole una Messa particolare, densa, di spiritualità e di storia, di cultura antica, ecco, è un momento molto commovente e molto bello. Questa mattina, nella Chiesa di Sant'Antonio Abate, abbiamo accompagnato, sulla porta del Paradiso, padre Costanzo Romano, un frate francescano che con umiltà e mitezza, ecco, la parola più bella che la descrive, è la parola mitezza, l'abbiamo accompagnato fino sulla porta del Paradiso, con tanti, tanti frati e tanta gente che abbiamo pregato per lui, ricordato la sua attività, la sua umiltà, l'essere confessore, attento, ricercato, vero, sincero, mite. E poi un uomo vicino ai poveri, per i frati che danno spessore a San Francesco, ieri ed oggi. Ecco, questa è la prima cosa che vorrei dirvi, queste semplici ma interessanti cose. Santa Lucia è una santa molto vera, molto bella. Questa ragazza di Siracusa, che preferisce la morte piuttosto che tradire il Signore Gesù, la passione non si sanno molte cose, però lascia nel cuore questa bellezza di ricordo, in particolare degli occhi. Che meraviglia! Oggi l'abbiamo ricordata, Signore, con tre motivi di grande bellezza. Mi soffermo un attimo per farvi gustare. Alla Chiesa di Santa Maria della Croce, con tantissima gente, il ricordo di Santa Lucia è diventato anticipo del Paradiso, anticipo della luce del cielo. Ecco il funeral di stamattina. Fa, o Signore, che i nostri occhi possano aprirsi e vedere i nostri occhi la Tua gloria, vedere Te, o Signore, il Tuo volto. Illumina i nostri occhi perché il Tuo volto è bello e la Tua voce è suave, dice il Cantico. Questo è lo stile con cui abbiamo vissuto Santa Lucia, uno stile d'amore, di relazione densa, appassionata, di parola che si fa, cuore che arde. Perché anche chi non ha la grazia di poter vedere con gli occhi, può vedere col cuore. del terzo motivo, mi piace sempre rinnovare quella bellissima storica frase che i ragazzi sanno bene, tratta dal piccolo principe, quando la volpe spiegava come senso di saggezza al ragazzino, al piccolo principe che ci chiedeva tante cose della vita. La volpe diceva, sentite che bella frase, non si vede bene che con il cuore, con il cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi. Che meraviglia! È l'essenza della fede. Non vedi perché hai gli occhi, ma vedi perché hai il cuore. E anche se hai gli occhi ma non hai il cuore, non vedi. E se hai cuore e non hai occhi, vedi lo stesso. Vedi lo stesso bene. E grazie a Luigi che oggi, col Braille, qualche volta ve lo porto qui a parlare con voi, a dialogare con voi, a far leggere con voi l'esperienza meravigliosa di chi attraverso la disgrazia questo calzolaio Braille francese che per un momento particolare purtroppo attraverso lo strumento con cui aggiustava il cuoio e lo preparava purtroppo ferì i suoi occhi, rimase cieco. Ma allora, disse, io trasformerò la mia notte buia, la mia cecità in valore per chi non può leggere, per chi non può vedere. E inventò i buchi. Attraverso le mani, col Braille, sentono, leggono. Oggi Luigi ha letto in modo meraviglioso la lettura di San Paolo alla chiesa di Corinto. Che stupenda, che voce. E vorrei chiedervi, un giorno, noi vi abbiamo fatto vedere della nostra emittente, la sorgente, sempre così puntuale sulle cose, un matrimonio tra due non vedenti fatti ad Assisi, vi ricorderete. Ebbene, questa coppia ora aspetta un bambino. pregate anche voi che possano portarlo a termine, che nasca sano, che sia lui gli occhi dei suoi genitori. Un domani possa essere lui, colui che li accompagna. Sono già bravi, già autonomi, già capaci di mille cose. Lei insegna, pensate, latino e italiano in un liceo. E guardate che è severissima. e c'è un silenzio in quella classe quando lei entra perché individua subito quale ragazzo chiacchiera. Attraverso il sentire, attraverso il capire, anche per il rispetto di questa figura, la classe è cresciuta in umanità, in attenzione, in legami veri. Ha capito che il vero handicap non è esterno, ma è nel cuore. Che è questo il messaggio. Bellissimo. E allora, la festa di oggi di Santa Lucia ha questi tre significati. Prepara il Natale, è luce ai miei occhi quando io prego, quando parlo, quando leggo la parola di Dio, come dice il Salmo 118, lampada ai miei passi è la tua parola, luce, luce sul mio cammino. E poi questa meravigliosa capacità di dire Signore, fa che io non veda perché ho gli occhi soltanto, ma soprattutto perché ho un cuore. Questo è il senso prodigioso. Un ultimo avviso, poi entriamo nella catechesi di questa sera su Musee. La campagna libera la domenica è andata molto bene, grazie e della vostra adesione, ma bisognerà continuarla perché il cammino, abbiamo tempo ancora fino a febbraio-marzo per la raccolta delle firme, l'unica cosa che va organizzata bene e la faremo sempre meglio con una figura autorevole che possa confermare le firme che voi fate in modo che vengono accluse alle migliaia di firme già raccolte in tutta Italia. Ma soprattutto capite il senso morale, etico di questa raccolta. Se vogliamo che i centri storici San Bartolomeo, Santa Maria della Croce, le nostre chiese, i centri storici dei vostri bei paesi così dolci nel Molise con le loro colline, le loro montagne, queste chiese curate, questi paroci presenti, questa gente fedele, se vogliamo che la domenica torni ad avere la bellezza e il gusto della gratuità, un turismo vero che la domenica si rilancia, una passeggiata in mezzo ai boschi, come dicevo io, con questa fresca e pungente aria d'inverno, allora anche allora la domenica non deve essere per ipermercati, non deve essere per fare la spesa, ma deve essere per godere la domenica nella bellezza di un giorno gratuito per i tuoi figli, per il tuo cuore, ecco perché puoi ancora continuare a firmare e invito i paroci a organizzarsi bene anche nelle realtà dopo Natale in modo da riprendere anche l'inizio della Quaresima l'esperienza di questa provocazione positiva, un Vangelo vissuto nella storia. ed eccoci alla Catechesi giovedì scorso vi ricordate io ero il seminario, ciò che avete pregato per i seminaristi, è stato molto bello, abbiamo ricordato anche la tragedia di Mononga di quella miniera americana che è scoppiata proprio il 6 di dicembre del 1907 il giorno di San Nicola travolgendo 350 persone chiuse e racchiuse in questa terribile morte per la sfissia dentro il grisù della miniera e la tragica realtà tra questi 87 erano del Molise e molti altri calabresi meridionali napoletani ecco gente del sud che è morta in questo momento e quella tragedia non la dimenticheremo mai il 6 di dicembre del 1907 lascio a voi perciò grazie di quella trasmissione entriamo nell'esperienza e cominciamo ad aprire il nostro il nostro testo sull'esodo l'esodo chi avesse questo libro che la diocesi ha preparato siccome abbiamo chiesto l'altra volta siamo a pagina 33 è molto importante il rovetto ardente e la chiamata o meglio le chiamate le quattro chiamate di Mosè e la sua missione di liberatore pagina 33 del testo per chi avesse la possibilità noi andremo avanti chi non ce l'ha il testo faccia richiesta o la sua parrocchia o al centro di Ocesano o in passi in curia perché è molto bello allora prima di tutto chiediamo alla regia di mandarci in onda il filmato così inquadra molto bene questa chiamata prego alla regia grazie dal tuo rovetto ardente o signore tu m'ordinasti di condurre il popolo a questa santa montagna per testimoniare la tua gloria e ricevere le tue leggi in che ho mancato che mi abbandoni io sono io sono il signore Dio tuo non avrai altro Dio all'infuori di me non ti farai figure scolpite per adorarle o proferire in vale il nome del signore Dio tuo ricordati del giorno di riposo per santificarli onore il padre e la madre non uccidere non commettere all'interio non rubare non fare falsa testimonianza non desiderare cosa di nulla che appartenga al tuo prossimo scritta con il dito di Dio va scendi dal monte perché la tua gente si è corrotta vi devo chiedere perdono c'è stato un equivoco con la regia pazienza abbiamo abbiamo mandato in onda un'immagine non adatta a quello che avevamo intuito pazienza sono quelle cose del bello della diretta pazienza però vorremmo lo stesso narrarvi la realtà vi ricordate ecco come la Bibbia racconta capitolo 3 adesso seguitemi bene abbiamo tutto il tempo sì poi faremo delle domande proprio su questa immagine il tema di fondo è Dio che ti chiama Dio che mi chiama Dio che chiama tutti alcuni in modo particolare Mosè vi ricordate preso questo bimbo dentro la cesta cresciuto dalla fila del faraone poi diventa vendicatore perché intuisce che il popolo è schiacciato uccide l'oppressore deve scappare Ietro lo raccoglie e mentre sta pascolando con il suo greggio il greggio di Ietro il greggio del suocero conduce il bestiame oltre il deserto e arriva al monte di Dio che era questo l'Oreb il monte quello che avete visto nelle immagini l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un rovetto e li guardò ed ecco il rovetto ardeva per il fuoco ma quel rovetto non si consumava Mosè pensò voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo perché il rovetto non brucia ecco immaginate questo fuoco che consuma questo cespuglio che ancora la cui le tradizioni ancora sono presenti sul Sina e la Nure abbiamo visto l'antico ricordo di questa immagine il Signore vide che si era avvicinato per guardare Dio gridò a lui dal rovetto Mosè Mosè eccomi rispose non avvicinarti oltre togliti i sandali dai piedi perché il luogo sul quale tu stai è un luogo ed è un suolo santo ecco la maestà di Dio poi aggiunse io sono il Dio di tuo padre il Dio di Abramo il Dio di Isacco il Dio di Giacobbe Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare il volto di Dio poi Dio rivela il suo stile sentite i quattro verbi bellissimi non dimenticateli come Dio si presenta come interviene nella storia come prende a cuore la schiavitù l'oppressione l'umiliazione del suo popolo ben diversamente da Mosè che aveva ucciso l'avversario Dio dice ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendanti a causa della durezza della sua schiavitù poi conosco le sue sofferenze sono senso per liberarlo dal potere dell'Egitto e farlo salire da questa terra di schiavitù a una terra dove scorre latte e miele ripeto le quattro scelme perché è importantissimo che voi capiate come Dio si presenta guardate tutto coinvolto di Dio prima di tutto i suoi occhi ho osservato ho visto ecco la festa di oggi Lucia ho visto ho osservato la schiavitù la miseria l'umiliazione la crisi nella quale anche noi oggi siamo ho ascoltato il grido il pianto le lacrime di chi è disoccupato di chi sta perdendo il lavoro e specialmente in questo Natale quanti 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 grida di dolore anche in Episcopio nelle Caritas nelle parrocchie a livello nazionale quante realtà le statistiche che le confermano poi la bellissima immagine conosco ecco il cuore gli occhi gli orecchi il cuore conosco le sue sofferenze sono in empatia con te so quanto soffri conosco le tue lacrime com'è bello Dio è così un Dio che conosce col cuore che ascolta il grido che vede e perciò ecco l'ultima frase scendo sono osseso per liberarlo Dio prende posizione ci aiuta ci interviene entra in gioco ci libera ci dà forza e perciò come conseguenza l'esperienza Dio di chi si serve dopo che ha visto ascoltato conosciuto e sceso manda Mosè Mosè diventa il mediatore va io ti mando dal faraone fa uscire il mio popolo dall'Egittà prendi posizioni guida tu che sei in che modo Mosè ecco attenti bene Mosè davanti alla esperienza del mandato rigido va sei tu a liberare il mio popolo dice ma chi sono io per andare dal faraone e per far uscire dall'Egitto gli israeliti e capite bene va chi sono io ed ecco la risposta io sarò con te guardate queste tre chiunque ha vissuto una vocazione come la mia come quella dei sacerdoti delle suore ma anche te che sei credente in Cristo i tre passaggi il mandato la paura l'obiezione e la sicurezza io sono con te anzi ti dà un segno su questo monte tu un giorno tornando vedrai ecco la scena che avete visto anticipa quello che è avvenuto su quel monte Dio nel rovetto ardente dà il mandato tutto il viaggio su quel monte ritorna ed è quello che avete visto se pure abbiamo fatto un piccolo errore però è servito a capire come Dio compirà le sue promesse però Mosè non si convince prima chiamata seconda chiamata entra in gioco di nuovo Mosè le sue obiezioni la sua fatica ed è bello vedere che quattro volte Dio chiama quattro volte Dio manda e quattro volte Mosè fa fatica solo la quarta volta accoglierà con infinita fatica siamo tutti oggi ieri sempre faticosi di fronte alla proposta di Dio è difficile obbedire è difficile partire è difficile lasciare è difficile accettare è difficile dire di sì come ha fatto la Madonna nella bellissima pagina della annunciazione è difficile dire di sì però è immensamente liberante se tu ce la fai come ha fatto Mosè con fatica certamente però se ce la fai Dio ti benedice com'è bella quella frase che hanno detto anche a me in un momento particolare proprio il priore della certosa di Serra San Bruno sentite che frase mi ha detto che mi ha convinto Dio obbedisce a chi obbedisce cioè Dio ti chiede ma ti restituisce centuplicato è quello che ho detto oggi anche a padre Costanzo nel momento dei suoi funerali recuperando una magnifica frase di San Francesco che io vidi un giorno in un piccolo conventino in un posto molto fuori mano in mezzo alle montagne c'era questo conventino francescano una scala ripida e in cima c'era scritta questa bellissima frase latina magna promissimus maiora promissa sunt nobis cose grandi noi abbiamo promesso quando abbiamo detto di sì ma cose ben più grandi ancora maiora promissa sunt nobis cose ben più grandi sono promesse per noi ecco tu dai ma Dio restituisce il centuplo tu fai e lui completa tu fai il primo passo e Dio fa il secondo certo è faticoso ed ecco perché leggiamo Mosè perché la seconda chiamata è proprio questo io arrivo dalle serelliti e dico il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi ma mi diranno come si chiama questo Dio ed ecco la sua risposta il suo nome io sono colui che sono io sono Yahweh che ha un significato bellissimo non dice io ero non dice io sarò non dice io lui è ma io sono presente colui che sono presente è la parola ebraica Yahweh il vivente vuol dire la certezza la presenza colui che è sempre lì con te è lui che ti prende per mano colui che ti dà sicurezza colui che ti lancia sulle strade della vita colui che ti garantisce la speranza e allora aggiungo una sola una precisazione non dite che il nome di Dio è Geova per l'amor di Dio è un errore madornale qualche volta ve lo spiegherò è un errore incredibilmente ingenuo da illetterati su questo fascicoletto troverete la spiegazione una scheda interessantissima a pagina 36 scheda sul nome di Yahweh la conoscenza del nome di Dio le origini del nome di Yahweh il significato di Yahweh ecco leggete a pagina 36 e 37 questa scheda molto utile e così vi chiarirete però qualche volta ve la spiegherò con più attenzione intanto però sentitevi questa seconda chiamata prima di tutto disse tu vai e su questo monte avrai conferma ora la seconda conferma è il nome ma Mosè ancora fa fatica tant'è che davanti a questa situazione Mosè risponde sentite che fatica ecco non mi crederanno sembra di sentire la sua voce non mi crederanno non ascolteranno la mia voce ma diranno non ti è apparso il Signore il Signore gli disse che hai in mano rispose un bastone volevo farvelo vedere vediamo se dopo riesco a farvi vedere un bastone riprese lancialo e diventa un serpente pillolo per la coda torna ad essere un bastone su quel bastone Mosè appoggia il suo cammino altro non è per me e lo dico con commozione altro non è che il pastorale ecco l'ho portato adesso ve lo farò vedere dopo un attimo sul finire per motivi tecnici è un po' complicato però è molto bello mi hanno regalato un bastone solo proprio di legno puro ebbene questo bastone ricorda proprio il bastone di Mosè il vincastro anche se io cammino per la valle della morte tu tu sei con me il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza come lo dava a Mosè come lo dà ai pastori che si appoggiano e guardano davanti tanti pastori specialmente sulle vallate scossese della Speromonte che guardavano appoggiati al bastone appoggiati al bastone guardavano ecco qua anzi già che ci sono vi dico solo ecco qua questo è il bastone che l'Unitalsi mi regalò non è è complicato a livello scenografico farvelo vedere in piedi ma immaginatelo ed è molto bello questo è un po' il bastone di Mosè su cui io mi appoggio questo è il pastorale questa è l'esperienza bellissima di dire Signore tu sei la mia roccia tu sei il mio nome io sono il tuo nome perché sei la mia e la tua presenza eternamente certa e solida tu sei il mio bastone di te mi fido a te mi affido su di te io mi appoggio proprio come abbiamo detto domenica scorsa ai giovani nella giornata bellissima a Riccia incantevolmente preparata dalla pastorale giovanile dai padri salesiani dalla comunità di Riccia degli oblati da tanti giovani che sono venuti mandati da voi cari sacerdoti che hanno detto io mi fido di te ecco il bastone che cos'è allora c'è un terzo segno che restituisco alla regia c'è un quarto segno abbiamo detto vi ricordate il monte il nome il bastone c'è un quarto segno perché Mosè nemmeno si convince e dice sentite com'è questa ve la leggo intera mio signore io non sono un buon parlatore dice Mosè non lo sono mai stato prima e neppure da quando tu hai cominciato a parlare del tuo servo ma sono impacciato di bocca e di lingua qualcuno dice era un po' balbuziente non avevo quella scioltezza ed ecco di nuovo l'obiezione come dire ma perché hai sento me come faccio ad andare ho paura io so io so chi sono gli egiziani capite era consapevole Mosè dei rischi che correva delle fatiche dell'ingratitudine del suo popolo della sapienza e delle obiezioni che le avrebbe fatto il faraone la sua gente la realtà quotidiana non ha ora il signore gli dice chi ha dato una bocca all'uomo o chi lo rende muto o sordo veggente o cieco non sono forse io il signore ora va e anche così si conclude Dio non molla ora va io sarò con la tua bocca che bella io sarò con la tua bocca cioè con la tua parola pensate anche un parroco valbuziente o un vescovo che fa le sue fatiche o un papa che ha la pronuncia diversa o qualsiasi papà e mamma che fa catechesi con le sue quando si inceppa non importa non importa Dio è su quella bocca quando tu parli di Dio io sarò con te con la tua bocca ti insegnerò quello che dovrai dire perdonami signore mio manda chi vuoi mandare allora la collera del signore si accese contro Mosè e gli disse va bene sei proprio duro non capisci ostinato e Dio però non muore e gli dice senti capisco le tue fatiche le tue obiezioni le tue resistenze ma ti do un aiuto non vi è forse il tuo fratello Aronne il Levita io so che lui sa parlare molto bene faremo così guardati ti sta venendo incontro gioirà il tuo e il suo cuore tu gli parlerai e metterai sulla sua bocca le parole da dire che io dico a te e tu le dirai ad Aronne e Aronne sarà il tuo portavoce con lingua sciolta e con parola svelta le parole da dire io sarò con te e con lui mentre parlate e vi suggerirò quello che dovrete fare parlerà lui al popolo per te allora egli sarà per te come bocca e tu farai per lui le feci di Dio terrai in mano il bastone con il quale tu compirai io però dici com'è bella quante volte l'ho spiegata ai preti questa immagine uno è la bocca l'altro è la parola uno è il cuore che ascolta le parole di Dio e l'altro le diffonde è l'unità pastorale un prete non può far tutto ma se due tre preti si mettono insieme ecco la meraviglia uno è esperto di catechesi l'altro sa parlare ai giovani l'altro entra nelle scuole l'altro sa dire una parola giusta agli ammalati l'altro fa benissimo i sacramenti l'altro predica in un modo mirabile l'altro battezza allora vedete vedete non un paroco che pretende di far tutto da solo isolato come se fosse qualcosa di mitico no io ho un dono tu ne hai un altro lo mettiamoli insieme Mosè e Aronne Aronne e Mosè Mosè che ascolta le parole di Dio Aronne che le diffonde ecco come bisogna fare l'apostolato e a quel punto finalmente Dio sente il sì di Mosè ecco avete visto io vi ho raccontato i quattro momenti faticosi adesso se già qualcuno vuole intervenire nella catechesi attorno a questa fatica a dire di sì sul tema dell'obbedienza sul tema della chiamata sul tema dell'ascolto sul tema della parola della collaborazione reciproca in fondo una domanda nasce certo ma Dio Dio parla sempre come faccio ad ascoltare come faccio a capire come faccio a dirgli di sì anzi sul libro che vi ho indicato pagina 35 ci sono quattro domande taglienti ve le leggo perché sono molto precise sono fatte bene cosa vuol dire per te oggi coprirti il capo e toglierti i sandali affinché tu riesca ad ascoltare Dio laddove non riesci più a farlo cioè come ti metti in correlazione con Dio ecco se qualcuno nel frattempo se la regia dà la sovrimpressione sul telefono possiamo veramente cominciare a dialogare in questo quarto d'ora che abbiamo se c'è qualche domanda qualche spiegazione vedete il numero 482127 potete veramente intervenire poi quando hai trovato scuse per dire di no a una chiamata di Dio e hai rinviato sine die il tuo si come ha reagito il Signore bellissima questa domanda a Dio non si può dire di no non si può se ti ha puntato perdonate l'espressione non ti molla e sempre ti cercherà non si può mai dire di no a Dio perché più grande di me è di te ti cerca sempre ti aspetta dietro pensate Paolo renegatore bestemmiatore contrario persecutore zacchete a mezzogiorno di quel giorno nel suo viaggio verso Damasco lo aspetta anche a lui si chiudono gli occhi per tre giorni non ci vede più finché arriva Anania lo tocca gli unge gli occhi lo segna con la grazia divina gli occhi si aprono cadono le squame ed ecco la bellezza di un annuncio perenne Dio ti aspetta terza domanda quali sono le gioie della tua vita che hai sperimentato e che non si sono ancora consumate come il rovetto cioè c'è qualcosa che nella tua vita è rimasto incompiuto inadempiuto da parte tua e infine la quarta domanda quali tratti di Dio riesci a vedere in queste quattro esperienze che vi ho narrato il monte il nome il bastone la parola ecco Dio è così Dio è monte Dio è nome Dio è bastone Dio è parola ecco è meraviglioso capitolo 3 capitolo 4 dell'Eso perché danno di Dio quella pienezza per cui anche la fatica ecco mi dicono che c'è una telefonata pronto? pronto? pronto buonasera eccellenza sono Don Orlando oh Don Orlando carissimo grazie ci dica ci dica senti l'episodio che lei ci sta iscritto è molto bello anche perché Mosè veniva da una sconvitta sì aveva voluto liberare il suo popolo attraverso la forza aveva ucciso l'egiziano voleva farcela da solo e su monte Madian lui lì è uno sconvitto e ripensa forse che aveva sbagliato certamente perché aveva voluto applicare i suoi metodi alla liberazione sì e allora ecco perché lui alla fine dice ma vado lì trovo queste difficoltà e alla fine dice vado eccellenza lo applico a noi sacerdoti certo quando vogliamo usare i nostri metri le nostre regole abbiamo fallimento invece dobbiamo usare il metro che Dio ci dice che è il metro che ci dà allora l'apostolato diventa fecondo altrimenti siamo destinati a fallire a parlare ma non a produrre grazie eccellenza e buonasera grazie 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 Don Orlando perché come è bella questa applicazione avete visto si può dire e applicare questa pagina a quei quattro modi con cui interagire con Dio Dio con noi in maniera progressiva la fatica ma anche i fallimenti ma anche la certezza ed è bello vedere che Dio sa vincere sa vincere ed è bella questa esperienza aggiungo una parola grande in attesa che altri possano prendere in mano il telefono e intervenire questa esperienza del fallimento è molte volte presente nel Nuovo Testamento pensate appunto a Saulo la sua arroganza la sua presunzione la sua certezza cade da cavallo nella polvere e poi deve essere accompagnato lui il Signore il sicuro il forte oppure quando ricorderete quella pagina dolcissima ma anche drammatica quando i pescatori sulla riva del lago vedono che c'è una figura inaspettata la loro barca trascina una rete ma una rete vuota fallito falliti erano e in quel mentre si accorgono che quella figura li attende la riconosce per primo Giovanni Pietro si lancia la barca arriva ed ecco che arriva piena di pesci prima era partita carica di tante sicurezze umane ma le reti erano rimaste vuote era ripartita sulla voce di Dio sul luogo dove quella figura li aveva detto ed ecco che diventa carica di pesci cioè carica di frutti proprio perché come ha detto don Orlando se noi basiamo la nostra vita su noi stessi tutto si perde falliamo se invece è basata sulla forza di Dio come per Mosè come per gli apostoli come per Paolo come per ciascuno di voi come tante volte anche per me quando ero troppo sicuro mi sono accorto che nessuno mi ha ascoltato quando ero inceppato pregato molto mi sentivo bisognoso di tutto ecco mi accorgo che Dio mi mise sulla bocca le parole giuste che entrarono nel cuore della gente ecco l'umiltà la fiducia il confidare in Lui l'affidarsi a Lui dà la capacità grandissima di poter intervenire e salvare ecco non so se c'è qualche altra telefonata nel frattempo però capite bene che è molto bello sentire così l'altra volta avete visto il filmato su una vocazione che è quella di Donato domenica scorsa abbiamo sentito un'altra esperienza drammatica di chi nella vita perduto si credeva ma Dio lo ha atteso ripreso rilanciato risanato dentro e fatto di nuovo strumento di Dio ecco questa è la bellezza Dio ricupera tramite i etro tramite la sua voce tramite quel rovetto recupera Mosè e dà a Mosè uno spazio meraviglioso di protagonismo non sulle proprie forze ma sulla forza di Dio domani la Chiesa ricorda San Giovanni della Croce io andrò dalle suori di clausura perché è una figura fondamentale quell'uomo ha riformato il Carmelo con molta fatica con tantissime persecuzioni con molti fallimenti umani però è stato tenace e ha detto nulla ti turbe nulla ti renda così preoccupato Dio è sempre con te lo sapete benissimo anche i ragazzi lo sanno in spagnolo no nada te scante nada te turbe perché Dio è con te lo è con Mosè lo è con i Santi lo è con Bernadette lo è con Fra Immacolato e a questo proposito voglio dirvi che domenica 16 fra due tre giorni noi alle ore 15 e 30 faremo quel momento di preghiera con i giovani soprattutto nella casa di Fra Immacolato davanti alla stazione ecco c'è già un gruppetto di giovani una decina di ragazzi di ragazze molto forti tenaci mensilmente presenti attorno a quel a quel letto dove quest'uomo che non aveva nulla di sano nulla di vanitoso ha saputo darci un esempio meraviglioso di forza di Dio nella fragilità dell'uomo perché dove l'uomo fallisce Dio costruisce dove l'uomo non riesce ad operare Dio opera e cambia ecco vedete questo è l'agire di Dio ed è bello quello che ha detto padre Don Orlando quello che ci racconta questo brano se non ci sono altre telefonate attendiamo qualche attimo nel frattempo perché possa veramente essere pronto il cuore nostro ed è bello allora che io vi legga che io vi legga il salmo il salmo 22 proprio su quello del pastore che abbiamo citato poco fa perché nella sua bellezza dice proprio questo il Signore è il mio pastore è quel bastone non manco di nulla su pasco gli erbosi mi fa riposare ad acque tranquille mi conduce mi rinfranca mi guida per il giusto cammino per amore del suo nome anche se dovessi camminare in una valle oscura in questo periodo di crisi davanti al mistero della morte non temerei alcun male perché perché tu sei con me vedete la stessa parola dell'esodo io sarò con te tu sei con me quando fallisco quando ho paura quando perché il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza come tornano questi temi biblici costantemente presenti Mosè i salmi Gesù buon pastore i santi fino ai santi quotidianamente presenti davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici con spargi di olio tastiera abbiamo fatto l'unzione con l'olio sulla fronte di tanti tanti fedeli nella chiesa di Santa Maria della Croce e abbiamo detto per intercessione di Santa Lucia ti liberi il Signore da ogni male da ogni pericolo con spargi di olio il mio capo abbiamo fatto qua il mio calice trabucca felicità e grazie mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni ecco vedete com'è bella la Bibbia com'è bella questa esperienza di poter dire Signore tu sei luce alla mia lampada allora chiudiamo perché forse c'è qualche telefonata ma sento qualche difficoltà di collegamento mi piacerebbe allora che voi vedeste in pochi minuti un filmato ora molto bello domenica prossima domenica 16 le scuole materne rette guidate dalle parrocchie e dalle suore faranno la domenica aperta scuola materna aperta vedete questo filmato vi spiega molto bene la cosa poi io riprenderò e concluderò col pensiero finale della buonanotte è un gesto meraviglioso come dire voi mandate i vostri bambini nella nostra scuola noi vi siamo grati ma venite a vedere dove vanno cosa fanno qual è il piano educativo che cosa in fondo c'è dietro fateci sentire carissime mamme che vi siete vicini così la suora dirà il tuo bimbo è questo agli occhi vispi il cuore aperto e tra la suora e la mamma nasce una simpatia meravigliosa e chi li collega è il sorriso del loro bambino chi lo guarda come mamma chi lo guarda come maestra ma entrambe sono appassionate all'unico cuore il cuore di quel bambino che diventa legame tra famiglia e scuola ascoltate ora questo brano grazie a tutti salviamo le nostre scuole paritarie dell'infanzia le nostre scuole che per decine di anni hanno reso all'infanzia un servizio educativo e sociale apprezzato dalle comunità che le ha volute diffuse e radicate in ogni paese stanno per scomparire ed è un vero peccato è qui che i ragazzi vengono accolti ed accompagnati è qui che gli insegnanti si propongono come testimoni di uno stile di vita fondata su valori autentici e di costruire il bene comune Giovanni Paolo II già nel lontano 1984 invitava tutta la chiesa a compiere ogni sforzo per mantenere efficienti le strutture della scuola cattolica in particolare i vescovi i sacerdoti le congregazioni religiose a custodire col massimo impegno come la pupilla degli occhi questo grande impareggiabile servizio alla chiesa Mario come promuovere e consolidare il rapporto tra la famiglia la scuola e la comunità cristiana oggi l'obiettivo che si prefigge la scuola dell'infanzia anche in Molise guidata da me da 20 anni è proprio questo consolidare i rapporti con le istituzioni familiari soprattutto ma anche la cittadinanza che è intorno a noi proprio per dare l'obiettivo finale all'educazione del bambino i valori cristiani da radicare nel cuore dei bambini promosso da voi un progetto scuole aperte quali sono gli obiettivi e le finalità di questo progetto sì il progetto è scuola aperta che terremo vedrà il suo apice domenica 16 dicembre vedrà in tutte le nostre scuole l'apertura delle delle classi alle famiglie al territorio agli amministratori e il progetto si previsce soprattutto tre o quattro obiettivi principali quello di avvicinare le famiglie e le istituzioni al mondo della scuola quello di far conoscere le finalità stesse della scuola presentando la ricchezza e la varietà dell'operato dei nostri docenti all'interno ma soprattutto ribadire un elemento essenziale richiamare il diritto della libertà di scelta della famiglia per dare l'educazione che uno sente di dare come nelle nostre scuole soprattutto quella cattolica quindi la vostra è un'offerta formativa di grande valore cristiano quali sono secondo te le modalità di attuazione? Sì la nostra è un'offerta formativa che dura da ben 40 anni qui in Italia ma soprattutto in 20 anni con la presenza della federazione sul territorio e si prefigge soprattutto di raggiungere la qualità del servizio pedagogicamente e didatticamente al servizio del bambino alle istituzioni che cosa si può chiedere di più? alle istituzioni e con questo progetto noi cercheremo e cerchiamo in tutti i modi di sensibilizzarli affinché rivolgano il loro interesse all'educazione e all'istruzione sappiamo benissimo che in questo momento di crisi i maggiori tagli sono stati fatti alla sanità e all'istruzione i due elementi che rendono un paese civile a questo appuntamento non possiamo mancare invita la cittadinanza io invito tutti tutta la cittadinanza a visitare le nostre scuole a parlare all'interno delle nostre scuole con le nostre collaboratrici con le nostre direttrici ma soprattutto a capire l'importanza di questa istituzione paritaria cattolica presente sul nostro territorio da anni se non da secoli come ci ricorda la CEI nel suo messaggio la scuola cattolica oggi in Italia ha la missione di trasmettere alle nuove generazioni ragion di vita e di speranza ma la scuola non riguarda solo l'aspetto dell'istruzione è un ponte educativo necessario per educare tutti a vivere secondo criteri autentici valori puliti sui quali investire per spendere bene la propria vita la scuola è un bene comune che i territori di appartenenza devono custodire in maniera trasparente un bene che deve brillare per farlo brillare dobbiamo unirci unire le nostre forze le nostre intelligenze contribuendo ognuno con il suo per ammirare più in là come seduti di fronte ad un incantevole tramonto quello che siamo riusciti a realizzare ben ritrovati chiudiamo con la buonanotte dandovi le indicazioni su un nuovo Molise Molise insieme che è uscito in questi giorni molto bello proprio sul tema della scuola con un passaggio molto importante l'editoriale voglia di politica vi chiedo di leggerlo magari di discuterlo anche per sapere il vostro parere l'ho steso con molta fatica ma in molta riflessione mi piacerebbe sentire il vostro parere avete modo di via email dimandarmi che il vostro parere favorevole contrario critico questa frase non vi piace perché è importante in questo momento partecipare alla vita socio-politica perciò avete questa possibilità di Molise insieme la settimana prossima ci sarà anche una bella sorpresa riguardante una fiaba vi lascio così sospeso giovedì prossimo me ne parlerò perché uscirà proprio giovedì ed è impostata nel reino della fiaba per indicare però che dove c'è invidia c'è morte dove c'è amore c'è vita Cristo è venuto per darci questa certezza che chi ama non muore mai che chi ama vince sempre che chi ama è già nel reino dei cieli grazie grazie di vero cuore sulla sia di Mosè e con gli occhi di Lucia buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti